Buonasera amici del web, benvenuti nel mio YouTube channel, il mio canale YouTube, dove io oggi non farò una diretta per farvi ascoltare musica, ahimè non lo faccio neanche nei locali da tempo, ma io oggi con questa diretta intraprendo un nuovo percorso che voi mi avete spinto ad intraprendere. Io oggi parlerò di calcio, parleremo di calcio, parleremo di sport, ma oggi in particolare per questo primo appuntamento io parlerò di calcio. Lo faccio con voi, con molti di voi già sulle chat whatsapp, sono mesi ormai che abbiamo diverse chat whatsapp in piedi molto divertenti dove commentiamo gli eventi sportivi, dove scambiamo opinioni, ci sfottiamo anche su quelle che sono le preferenze che abbiamo a livello sportivo, a livello calcistico e siete stati, dicevo, proprio voi a dirmi, Michi hai tempo adesso, non stai lavorando, hai più tempo libero, hai già un canale YouTube, perché questi nostri commenti, queste nostre, queste tue considerazioni su quelle che sono le giornate sportive, su quelle che sono i commenti post partita, non le porti sul web, diamo la possibilità anche ad altri amici di commentare, di interagire con noi, di creare una community vera e propria e da una settimana che me lo dite, oggi pomeriggio ero in macchina, me l'avete detto per l'ennesima volta e mi sono detto che torno a casa, accendo la luce, accendo il computer e parto già con una prima puntata. Per cui, perché non far diventare questo canale, non riattivarlo e non farlo diventare MR Sport, o meglio non partire con la trasmissione che potrebbe essere appunto MR Sport, ma partiamo. E quindi partiamo con il primo argomento sportivo che non posso non dedicare al calcio, su quello che è il bilancio magari di queste prime sette giornate del campionato di Serie A. Bilancio che cade nella pausa nazionale, tra virgolette, pausa nazionale che un po' tutti abbiamo sullo stomaco, perché i giocatori di club fanno viaggi molto lunghi, spesso insomma vanno dalla parte all'altra del mondo a giocare, spesso tornano infortunati, tornano stanchi e quindi poi ne pagano tra virgolette le conseguenze le squadre di club che vedono appunto le performance, le prestazioni di questi calciatori compromesse da queste pause nazionali. Lo so, amiamo tutti le nazionali nei grandi eventi sportivi, mondiali, europeo, seguiamo per carità anche le partite delle nazionali, però quando arriva questa pausa tutti quanti dite oh che palle, è la prima cosa che diciamo. Però oggi appunto dobbiamo fare un bilancio di queste prime sette giornate del campionato di calcio di Serie A, la classifica di queste prime sette giornate vede ben nove squadre in sei punti, in due sole vittorie e vi dico subito che è una classifica che rispecchia totalmente quelli che sono i valori che si sono visti in campo in queste prime sette giornate. La suce il Milan che è meritatamente primo, il Milan ha 17 punti, una squadra in crescita, ha tirato fuori un filotto importante di vittorie, insomma è arrivato credo 24 se non ricordo male partite senza sconfitta prima di perdere con Lille in Europa League. Un Milan che è in fiducia, ha tanti giovani che hanno fame, Pioli ha trovato una bella quadratura, Ibrahimovic è molto importante, merita per quanto ha fatto vedere di stare lì su. Però amici non me ne vogliate io credo che il Milan non è ancora pronto per vincere lo scudetto, credo che il Milan non ha la struttura tecnica e non ha il bagaglio di esperienza per poter portare avanti un campionato lassù fino alla fine. Oddio, siamo in un periodo particolare, le squadre hanno i positivi da un giorno all'altro, hanno delle perdite in formazione molto importanti, si gioca a ritmi praticamente interrotti già da fine maggio inizio giugno, non hanno fatto le preparazioni estive le squadre e non esiste più il fattore campo, quindi tutto è possibile, ci sta che quest'anno ci possa essere una sorpresa, insomma. E chissà, potrebbe anche essere il Milan questa sorpresa, io personalmente credo di no. Però quello che è sicuro, quello che è certo è che in questo momento il Milan merita di stare lassù, così come merita di stare al secondo posto del Sassuolo, che ha fornito un calcio bellissimo, fatto di continua ricerca di gol, ha molti giocatori affamati, molti giovani interessanti, è un allenatore preparatissimo, che sa mettere benissimo la squadra in campo, quindi il Sassuolo e la nuova Atalanta, meritatamente lì a 15 punti al secondo posto. Al terzo posto ci sono Roma e Napoli, anche lì io credo che la posizione sia meritatissima, la Roma non è una squadra di livellissimo, però è una squadra che può stare benissimo nei primi quattro posti di Champions League, ha degli ottimi attaccanti, ha un allenatore preparato, quindi è lì e se la gioca e manca Zagnolo, quindi ha tutte le carte in tavola la Roma per arrivare nei primi quattro posti, insomma, per qualificarsi per la Champions League. Insieme alla Roma c'è il Napoli, si polemizza il Napoli, poteva giocarsela a Torino, poteva fare sì un punto in più, poteva fare anche tre punti in più. Però io dico che in contraposizione a questo il Napoli ha vinto delle partite che probabilmente non meritava di vincere, le ha vinte così, all'ultimo le ha vinte con un po' di fortuna, anche domenica col Bologna, nell'ultima parte della gara in campo c'era solo il Bologna che non ha la struttura tecnica del Napoli, quindi probabilmente il Napoli può aver perso dei punti perché poteva giocarsela a Torino, ma ne ha guadagnati in altre partite dove non meritava. Non a caso il Sassuolo ha vinto a Napoli, quindi è giusto che il Sassuolo stia più su del Napoli, sia più su della Roma. Poi abbiamo Juventus e Atalanta a 13, Atalanta che è un po' in calo rispetto a quanto fatto negli ultimi due anni, si è un po' perso quel fattore sorpresa, però insomma è una classifica di tutto rispetto, è a quattro punti della capolista, vi ho già detto probabilmente la nuova Atalanta e il Sassuolo. Atalanta che è appaiata alla Juventus a 13, sotto ci sono Verona e Inter a 12 e Lazio a 11. Il Verona a 12 punti, pensate che il Verona è la squadra che ha subito meno goli, se avesse portato in porto la vittoria di domenica scorsa a Milano, il Verona adesso avrebbe avuto 14 punti e sarebbe stato a due soli punti dalla vetta dal Milano, quindi il Verona che è veramente una squadra ostica da affrontare. L'ultima di queste nuove squadre, insomma, delle quali vi volevo parlare è la Lazio, Lazio che ha sicuramente in calo e gli 11 punti sono quello che merita, ha preso due partite, insomma, per il rotto della cuffia, ma la Lazio che è in calo da quando si è ripartiti dopo il lockdown. Ho lasciato per ultimo le considerazioni su Inter e Juve, perché mentre il Milan è probabilmente il fattore sorpresa più importante di queste prime sette giornate, Juventus ed Inter sono la delusione più grande di queste prime sette giornate. In realtà più delusione è l'Inter della Juve, perché la Juve è un progetto nuovo, ha una guida tecnica della quale non ne conosciamo ancora il valore. A me piacciono gli allenatori che vengono dal campo, soprattutto i centrocampisti, i grandi centrocampisti. Però a Pirlo è tutto da scoprire. Juventus che ha inserito molti giovani, molti giocatori nuovi in squadra e quindi è appunto una squadra che si deve ancora formare. Certo, voi mi direte, però se ci fosse stato Ronaldo con Clotone e Verona probabilmente potrebbe aver avuto qualche punto in più. Lo so, però c'è stata la partita a Tavolino, c'è stato probabilmente il pareggio preso in dieci a Roma. Va bene, la Juventus è lì dove merita di stare. Sicuramente a margine di crescita, vedremo quello che succederà nelle prossime giornate. Così come l'Inter merita di stare lì dov'è. Io ho spesso detto ai miei amici interisti, l'Inter l'anno scorso ha perso una grande occasione per vincere lo Scudetto. L'Inter poteva, se ci avesse creduto di più, veramente arrivare in fondo e vincere lo Scudetto. L'Inter quest'anno è la mia favorita. Ha due squadre di qualità, ha i giocatori probabilmente più qualitativi di tutto il campionato e ha un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Quindi vedere un Inter in queste prime cinque giornate già a cinque punti di distacco dal Milan con diversi pareggi, ha perso anche lo Scudetto col Milan, non può che essere una delusione. Vedremo, ci auguriamo che alla ripresa del campionato fino a Natale ci auguriamo di continuare ad assistere a partite con tanti gol. Il gol è l'essenza del calcio, vogliamo le partite da 4 a 3, da 5 a 4, vogliamo queste partite belle e ricche di gol e speriamo di vedere un campionato combattuto. Per quanto riguarda le pause nazionali, per gli amanti delle curiosità, ho una curiosità che riguarda le pause nazionali e una curiosità che riguarda il campionato e tutte e due riguardano il mio giocatore preferito, CR7, il grande Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda le pause nazionali potrebbe essere per Ronaldo un'occasione ghiotta per agganciare Puskas. Nella classifica dei goleador all time, Ronaldo in questo momento è al quinto posto a 745 gol e si trova a un solo gol da Puskas a 7,46. Il Portogallo, come tutte le altre nazionali, giocherà tre partite, un amichevole e due di qualificazione alla National League. Le due di qualificazione sono con Francia e Croazia, ma domani il Portogallo gioca un amichevole con Andorra. Non so se Ronaldo, visto che ha cercato, domani giocherà io conoscendo Ronaldo, se fosse Ronaldo probabilmente almeno un tempo vorrei giocarlo contro Andorra perché, capiamoci, dato lo spessore tecnico di Andorra sarebbe davvero una ghiotta occasione per agganciare se non superare Puskas e quindi poi proiettarsi verso Pelé che è una ventina di gol all'incirca a 7,67 per la precisione e quindi al momento sono 22 gol di distacco da Ronaldo. Quindi potrebbe essere una bella occasione per gli amanti delle statistiche se domani dovesse scendere in caldo Ronaldo per agganciare o superare Puskas. Staremo a vedere se giocherà. Per quanto riguarda il campionato, per gli amanti dei numeri e delle curiosità, Ronaldo va in gol nelle ultime 27 partite e ha segnato 32 reti e quindi alla media di più di un gol a partita, ma soprattutto per gli amanti delle curiosità Ronaldo ha segnato almeno un gol con tutte e dieci le magliette differenti della Juventus indossate. Ronaldo ha segnato gol con tutte e tre le magliette indossate tre anni fa della Juventus. L'anno scorso, oltre ai tre kit, quindi quello casa, le way e il third kit. La Juventus giocò anche una partita con il completo fluo, quello associato all'Adidas skateboarding London, eccetera, e Ronaldo segnò contro il Genoa su rigore e quest'anno Ronaldo ha già fatto gol con tutte e tre le magliette della Juventus. La prima giornata in Juventus-Sampdoria con la maglia bianconera, due domeniche fa contro lo Spezia con l'arancione Flintstones, la doppietta, e domenica scorsa con la blu ha segnato contro la Lazio, quindi dieci maglie indossate ha segnato con tutte e dieci le magliette. Non ha giocato Ronaldo contro il Verona quando la Juventus ha indossato la maglia rosa, quella disegnata da Pharrell Williams. Chissà, se avesse indossato quella maglietta, avesse giocato, probabilmente avrebbe fatto anche gol. Una curiosità per tutti gli amanti delle curiosità e delle statistiche. iscrivetevi al canale, iniziamo, proponete argomenti, confrontiamoci, commentiamo, parliamo, divertiamoci sul web. MR Sport da oggi è una realtà.